Io ho sottoscritto Roberto Mazzuia, nato a Mestre il 21 ottobre 1965, nell'apparente pieno possesso delle mie facoltà mentali e allo scopo di rivendicare un principio assoluto di libertà, affermo solennemente in questo videotestamento biologico, che deve essere considerato come una vera dichiarazione di volontà, il mio diritto in caso di malattia di scegliere tra le diverse possibilità di cura disponibili e al caso di rifiutarle. Dichiaro altresì che nel momento in cui mi trovassi vittima di una malattia irreversibile o in uno stato di coma vegetativo, non sia sottoposto ad alimentazione forzata o accanimento terapeutico, ma solo sostenuto da farmaci antidolorifici che accompagnino la fine della mia esistenza fino a una morte decorosa e degna della carità umana. Richiedo che in caso contrario si occupi quotidianamente della sostituzione del catetere il Ministro Mara Carfagna, al fine di valutare se una parte di me effettivamente sopravvive.